Sto dentro, lascio a noi. Una volta arrivare a questa data, quando sono state fatte, i siti si riaprono. Quindi quello che le consiglio è di portare a fare questo giorno quando il vaccino è che i vaccini sono arrivati ora, quando hanno vaccinato tutte le persone che hanno preadeletto fino a 10 anni, questo è perché, però, non si è appunto in un caso, è quella corretta, altrimenti il vaccino sarebbe arrivato all'issaggio.